eccoci amici eccoci amici di ghiottone 99 allora allora fabio cosa ci fai nel mio canale scusa bella ragazzi da ghiottone 99 signori avete visto nella intro fabio caravello di frammenti di calcio che sarà ospite in questo video insieme a scilbi vi lascio i due canali in descrizione mi raccomando iscrivetevi un tifoso laziale una tifosa laziale fabio lo saluto l'ho conosciuto poche settimane fa all'evento di maraton bet lazio parma scilbi non ha avuto ancora il piacere di conoscerla comunque magari capiterà in qualche partita allo stadio magari vediamo vediamo comunque li ho invitati perché oggi c'è da parlare di un argomento importante che riguarda la lazio domani ci sarà la grande partita mila lazio decisiva per noi dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del miglior ci rimuove che in questo momento è innegabile sta attraversando un momento di crisi io appunto già visto gli interventi le clip che mi hanno mandato fabio e scilbi uno fabio è più dalla parte di difendere immobile scilbi dalla colpa comunque immobile c'è dalla colpa dice è un anno storto è comunque una persona come tutte le altre può capitare all'anno storto sono d'accordo sono d'accordo con fabio nel difenderlo perché poi se guardiamo i numeri in stagione ha fatto 17 gol che non sono pochi ma ovviamente lui ci ha abituato a standard molto più alti perché lui ci ha abituati minimo 25 gol a stagione a farli quest'anno non penso ormai ci arriverà anzi non ci arriverà probabilmente l'anno scorso c'è stato l'esploat 41 gol però ragazzi non è che tutte le stagioni puoi fare 41 gol e se no ti chiami messi ti chiami ronaldo eccetera eccetera e io però voglio andare a parlare appunto anche secondo me delle colpe della squadra perché per esempio con la spal prendo una partita che c'è stata poche settimane fa immobile ha giocato malissimo ma colpa di inzaghi delle scelte di inzaghi perché i numeri dicono che o comunque anche le prestazioni dicono che immobile con che con che siede in campo gioca molto meglio e in una partita come lazio spalla in cui tu andavi affrontare una difesa schierata che ti aspettava immobile non è il classico giocatore che il classico centra avanti che crossi in mezzo svetta di testa in mezzo due non è quel giocatore lì quindi immobile fisicamente soffre in quelle partite lì anche per caratteristiche quindi avere un uomo vicino come caissedo giova sicuramente a cirrus immobile infatti domenica ad esempio la sua suolo immobile ha giocato meglio rispetto a lazio spalla ha toccato molti più palloni ha segnato sul rigore sul rigore sappiamo che non sbaglia mai cirrimobile però è proprio secondo me un problema anche un po di testa perché poi si è mangiato quel gol lato sassuolo ve lo ricorderete di sinistro che io ancora non ci credo clamoroso come ha fatto sbagliarlo non è da lui assolutamente perché lui un rapace in art di rigore avrà mille difetti però un rapace e lì è un problema di testa lo vedo nervoso io lo vedo già dei primi minuti sempre nervoso quindi lui secondo me non dico che ha perso fiducia in se stesso però sente la pressione di dover segnare e quindi secondo me un gol io spero un gol sabato sera quello sì potrà veramente forse sbloccarlo definitivamente poi certo la squadra non l'aiuta non c'è più Milinkovic che gli fa 10 assist lui Salberto che ne fa altri 10 ragazzi non tutte le stagioni sono uguali e possono essere così fiorenti però ripeto il valore di immobile non si discute comunque esce sempre con la maglia è più che sudato fuori dal campo quindi ovviamente al giocatore non si discuta ragazzi vi lascio con l'opinione prima di fabio caravello e poi di silvi vi saluto e appunto ditemi la vostra nei commenti quello che penso di ciro immobile l'ho già detto in un mio video comunque sono qui a confermare la mia tesi in difesa assoluta in difesa assoluta di quello che è il centravanti italiano più forte attualmente in attività nella nostra serie a quindi non scherziamo non ve ne uscite con quagliarella con ragazzino della io quelli che sicuramente sarà bravissima deve crescere ken e cioè prima veramente prima era iniziato questo attacco nei confronti di ciro immobile dopo le partite della nazionale e abbiamo visto che la colpa non è assoluta non era assolutamente la sua adesso adesso come la l'azio va un pochino male come l'azio va un pochino male si addossano le colpe a ciro immobile perché non segna o segna poco ha segnato comunque 14 reti non ne ha segnate 20 ancora va bene ha segnato e 14 a molti gol sono arrivati da calcio di rigore ma i calci di rigore vanno segnati ragazzi non scherziamo solo non scherziamo io veramente lo voglio ribadire giù le mani da ciro immobile giù le mani da ciro immobile perché qualunque squadra del nostro campionato si sognerebbe si sognerebbe veramente di di averlo di averlo fra fra gli attaccanti della della propria rosa qualunque squadra qualunque squadra vorrebbe avere ciro immobile fra i suoi attaccanti quindi non scherziamo giù le mani da ciro immobile veramente basta immobile che come tutti ormai saprete perché cioè è evidente la cosa non non segna più tranne che su rigore però vabbè meno male che almeno segna su rigore è diventata molto più evidente la cosa soprattutto contro il sassuolo che si è mangiato un gol che veramente quel bastava in quella situazione bastava a prendere la porta da tipo dalla seconda metà del campionato che inizi che è cominciata sta crisi chiamiamola così che immobile non riesce più a segnare certo ogni ogni tanto qualche gol lo fa anzi io personalmente pensavo di vabbè gli servirà di sbloccarsi un attimo di tornare un attimo al gol per poi riprendersi invece non è stato così perché con la fiorentina ad esempio ha fatto un bellissimo gol però poi comunque il blocco è rimasto le ultime partite soprattutto si è visto immobile ha giocato veramente male soprattutto con la spalla ragazzi con la spalla è stato inutile io sinceramente non so perché non segni più purtroppo noi siamo purtroppo tra virgolette esseri umani quindi se c'è qualcosa che ci preoccupa influisce anche su quello che facciamo io non so perché immobile possa eventualmente essere preoccupato magari perché sta per nascere il terzo figlio non lo so io spero semplicemente che lui torni non voglio appunto come ho detto un secondo fa prendermela con lui perché è un giocatore io so che lui è forte è forte anche perché l'anno scorso ha fatto 30 gol in campionato quest'anno comunque ha iniziato bene ragazzi il gol contro i Napoli in casa ma che gol ha fatto quindi non voglio assolutamente prendermi con immobile perché è un giocatore che io ammiro però speriamo immobile Ciro torna aiutaci pure tu perché qui l'opzione non è che noi ci abbiamo di bala in panchina non è che siamo la Juve insomma abbiamo Caicedo in panchina quindi se tu riuscissi a tornare il più presto possibile insomma non ci dispiacerebbe ecco quindi faccia un pensierino Ciro